Ingredienti per quattro persone 300 gr di zucchine, due pomodori, un ciuffo di basilico, un ciuffo di prezzemolo, un spicchio d'aglio, 60 gr di margarina gradina, 350 gr di maccheroni, un quarto di litro di panna, 30 gr di parmigiano reggiano, sale quanto basta. Secondo il vostro gradimento come sempre Ricetta di cucina maccheroni alle zucchine E veniamo quindi a preparare la nostra ricetta di cucina maccheroni alle zucchine Andiamo quindi ad incominciare Mondate le zucchine Lavatele ed affettatele più finemente che potete Infine mettete il tutto dentro, una casseruola e rosolate la gradina con lo spicchio d'aglio Appena prende colore levatelo ed unite le zucchine affettate A questo punto della vostra ricetta di cucina dovrete regolare il sale e infine dovrete lasciare cuocere a fuoco lento per un tempo, non superiore ai 15 minuti circa A questo punto dovrete quindi aggiungere i pomodori e continuate la cottura per altri 20 minuti A cottura ultimata insaporite con il prezzemolo ed il basilico tritati Cuocete i maccheroni in abbondante acqua salata Scolateli e conditeli con le zucchine La panna ed il formaggio grattugiato Girate bene Lasciate insaporire per un minuto e servite E come sempre vi diciamo buon appetito a tutti voi